aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa NO experts Accident che ha pedo a lotare tutto il giorno? E' davvero stancante Fa davvero venire sete? Non e' vero mugman? Se solo avessimo qualcosa da bere Hey, hai avuto un'idea?! NO! E dai mugman! NO! Mugman, no Mugman Non puoi bermi, ma perché no? Non so che credi che abbiamo qui dentro, ma potrebbe essere una specie di cervello Potrebbe essere anche succhi gastrici, vescica, oppure il sangue, non può saperlo nessuno Per non parlare delle idee che si sono fatti su internet Pazienza, se non posso bere te allora vuol dire che dovrò bere me stesso Non farlo, ti prego Cazzo meno i cazzi suoi È dolce, dovresti provarlo Ma porco Visto Mugman, mi sono bevuto, era squisito, non sono morto e soprattutto non era niente di importante come avevi detto tu Mugman Fammi tornare in vita testa di tazza Ammetto che sei scemo Ma piuttosto la morte Va bene sono stato scemo Ok Alla fine ho capito credo che sia il nostro ca... A presto A presto A presto A presto A presto A presto